buongiorno il vangelo di luca racconta oggi in maniera molto breve il gesto eclatante di gesù che nel tempio di gerusalemme scaccia i venditori che fanno della casa del padre una covo di ladri dice il signore gesù ecco luca nel capitolo 19 versetti 45 48 dedica poco spazio a questo gesto che in altri vangeli è narrato con più ricchezza di dettagli ma il senso profondo è comunque importante ed evidente e lo si coglie dalla reazione di coloro che ascoltano il maestro gesù insegnare nel tempio dopo aver compiuto questo gesto così importante un gesto profetico che porta al culmine la sua presenza nel tempio al cuore della città santa che è il cuore della vita di israele ebbene a gesù i capi dei sacerdoti gli iscrivi gli iscrivi oppongono il loro desiderio di farlo morire si sentono privati della propria autorità hanno paura di perdere il potere dall'altra parte invece il popolo pende dalle sue labbra nell'ascoltarlo ecco allora che risulta evidente il prendere le difese della casa del proprio padre da parte di gesù significa in realtà prendere le difese del popolo la dimensione simbolica di questi versetti è fondamentale gesù il figlio di dio e quindi con lui il padre che gli manifesta stanno dalla parte del popolo prendono posizione ed è per questo che il popolo pende dalle labbra di dio questa alleanza è chiara inequivocabile ed è una rivoluzione nella logica dei capi del popolo del tempo ma forse dei capi di tutti i popoli di tutti i tempi i quali magari in maniera demagogica e superficiale vantano di prendere le parti del popolo a loro affidato ma poi nella prassi concreta questa cosa la si coglie soltanto se c'è un agire di conseguenza che gesù fa suo come modello ma soprattutto come fonte di grazia e di forza gesù infatti pagherà di persona questa sua presa di posizione a favore del popolo dio insomma non rimane al di fuori indifferente alle vicende ma si mischia e si mette in mezzo proprio perché vuole in prima persona essere strumento di liberazione e di autenticità per il popolo che tanto ama e se i capi vogliono diventare a loro volta anche loro dei seguaci di questo dio devono riconoscersi prima di tutto parte di questo popolo bisognosi della salvezza che gesù è venuto a portare e ritrovare nel tempio a loro affidato lo spirito di preghiera che hanno perduto buona giornata